Sono un ingegnere e una cosa simile non riesco affatto ad immaginarla. Conosco le cose che posso vedere ed afferrare, oppure che posso contare, ma che questo avvenisse così facilmente prima non lo immaginavo assolutamente. Da alcuni anni avevo dei disturbi di digestione e col passare del tempo aumentarono. Nella primavera del 1989 stavo così male da avere dei dolori veramente forti ed incessanti. Un giorno vidi del sangue nelle feci e sentì che era arrivato il momento di andare dal medico. Il dottore mi visitò e diagnosticò la diverticolite. Si tratta della presenza di protuberanze nel colon e le mie erano infiammate. Già da tempo non potevo più fare giardinaggio. A malapena riuscivo a sbrigare le faccende di casa. Era veramente pesante. Speravo che il medico mi potesse aiutare. Mi curò con dei farmaci di cui non riesco più a ricordare il nome. Dopo circa sei mesi in cui la diverticolite era diventata sempre più grave, il medico le comunicò che i farmaci non potevano aiutarla perché la malattia si era cronicizzata. Ciò ovviamente la colpì moltissimo, soprattutto perché sua madre aveva avuto il cancro all'intestino. Il medico ne era a conoscenza e le pronosticò che avrebbe dovuto aspettarsi la stessa evoluzione. Per lei questo fu un duro colpo. Ero così disperata che la notte seguente pregai dal profondo del cuore «Caro Dio, non voglio ancora morire. Ti prego, aiutami se ci sei». Poi, alcuni giorni dopo, qui a Bergisch Gladbach, non lontano dal nostro luogo di residenza, c'era una fiera esoterica e pensai «Ci dovrà pure essere qualcosa. Dai, informati!». Allora sono andata. Volevo proprio andarci. Sul piazzale di questo albergo, dove aveva luogo la fiera, c'erano due giovani donne che distribuivano volantini. Ne dettero uno anche a me e mi chiesero gentilmente se necessitassi di aiuto. Sgranai gli occhi e dissi loro di sì, che avevo bisogno di aiuto. Allora lessi il volantino sul quale c'era scritto «Non esiste nulla di incurabile. Dio è il medico più grande». Queste frasi mi colperono letteralmente e intuitivamente seppi che la mia preghiera era stata ascoltata e che era arrivato l'aiuto che cercavo. «Mi aveva detto che voleva andare là. Io ero molto scettico e molto restio. Non riuscivo affatto a immaginare cosa fosse. Ma non le volevo togliere l'ultima speranza cercando di dissuaderla o qualcosa di simile. Pensai, perché no? Se lei ci crede e se questo lo aiuta. Allora naturalmente l'ho lasciata libera di poterlo fare. Poi appunto è andata all'introduzione e mi ha raccontato tutto. Anch'io ero interessato poiché notai da subito che stava meglio, sempre di più e aveva riacquistato la speranza. I dolori erano cambiati, diminuivano e aveva di nuovo forza». Dopo circa cinque mesi ero completamente libera da tutti i dolori, da tutta la sintomatologia. Tutto era in ordine. Il mio addome era completamente libero dai dolori. Anche i reni, che pure erano stati intaccati, erano liberi. Non avevo affatto più dolore ed ero felicissima. Mi sono fatta visitare nuovamente, ma non sono più tornata dal medico che mi aveva curato. Ho preferito non farlo. Sono andata da un altro medico il quale mi ha detto che non c'era più alcun problema e che ero sana. Ciò che fin dall'inizio mi aveva maggiormente impressionato è stato ricevere io stesso una guarigione. Nel polso destro avevo una ciste sinoviale che si era sviluppata nel corso degli anni. Avevo dolore anche nel muovere la mano. Se la giravo all'indietro allora compariva il dolore. Una volta venne fatta anche una radiografia in cui era stato riscontrato un accumulo di liquido. Però non mi ero fatto operare. Così fui veramente sorpreso che dopo tre settimane questa ciste fosse sparita. Sono un ingegnere e una cosa simile non riesco affatto ad immaginarla. Conosco le cose che posso vedere ed afferrare oppure che posso contare. Ma che questo avvenisse così facilmente prima non lo immaginavo assolutamente. Ma poi ho avuto così tante guarigioni e soprattutto nel caso di mia moglie. Lei stava sempre meglio sino a raggiungere la completa guarigione. È vero ha avuto altre due malattie meno gravi della prima ma anche queste erano già completamente sparite nel giro di pochi mesi e ciò mi ha veramente impressionato. E così volevo fare tutto il possibile perché le persone ne venissero a conoscenza. In quegli anni si era appena aperto il confine tra le due Germanie e raggiungemo la zona orientale arrivando fino a Dresda e a Görlitz. Ci siamo spinti fino a Görlitz con sempre più tenacia. Poi siamo entrati in Polonia fin dove potevamo arrivare. C'era scritto vietato attraversare il ponte rischio di spari. Görlitz era la mia città natale. Avevamo portato dei volantini e quindi ne abbiamo distribuiti. Sono arrivato nel Circolo degli Amici nel 1990 ero studente nella Repubblica Democratica Tedesca. Ho trovato un volantino per strada in cui veniva indicata una conferenza. Così ci sono andato ed ho ascoltato con attenzione. Era un piccolo gruppo. Erano presenti alla conferenza circa 15 persone. All'epoca ero malato. Avevo l'asma. Praticamente dovevo inalare spray quattro volte al giorno. Questa era la dose normale e di sera per la notte dovevo prendere una pastiglia. Così potevo cavarmela senza grandi problemi. Dopo aver fatto degli sforzi come salire le scale ero costretto ad inalare ulteriormente perché a causa di questi sforzi restavo senza aria. Ero continuamente vincolato all'uso di queste medicine. Dovevo avere sempre un flaconcino di spray in tasca in modo da potermelo spruzzare se facevo fatica e se notavo di avere di nuovo difficoltà a respirare. Nessun medico è riuscito a liberarlo da tale sofferenza. Al contrario gli è stata fatta una prognosi negativa secondo la quale avrebbe dovuto assumere queste medicine per tutta la vita. Quando poi appunto ho assistito a questa introduzione dopo 14 giorni ho potuto tralasciare tutte queste inalazioni mattino, mezzogiorno, sera e prima di coricarmi. Dunque le ho sospese. Già la mattina e nel corso della giornata ho notato di non sentire più l'affanno nonostante avessi sospeso le medicine. Mi sono osservato per alcuni giorni e in un certo senso ho preso fiducia perché stavo bene. Penso siano stati circa dai 5 ai 7 giorni. Poi ho eliminato anche la pastiglia serale. Ebbene ho continuato a fare le visite mediche come avevo sempre fatto e dissi anche alla dottoressa che al momento non stavo prendendo le medicine. Era in estate circa luglio-agosto allora lei mi ha detto ma sì questa prima volta è andata bene ma aspettiamo e vediamo un po' cosa succede in autunno se eventualmente il disturbo si ripresenta ma non è riapparso. Dunque sono stato da lei ancora due tre volte e alla fine ho fatto un test sulla funzionalità polmonare. Lei voleva assolutamente che io lo facessi prima di congedarci. L'abbiamo fatto e risultava tutto bene e anche lei me l'ha confermato. è stupefacente che il signor Busse sia guarito da questo disturbo spontaneamente nell'arco di due settimane dopo l'introduzione all'insegnamento di Bruno Gröning. Come medico non sono in grado di spiegare da un punto di vista medico e scientifico questa guarigione. questo mi ha affascinato perché all'epoca ero ateo e non riuscivo ad immaginarmi che ci fosse qualcosa che potesse guarire che venisse da Dio dall'aldilà o da qualcosa di simile. Questo mi ha convinto in un certo modo e ho sperimentato che ci deve essere qualcosa di soprannaturale. Allora è accaduto che passo dopo passo semplicemente sono riuscito a credere che un Dio esiste. a credere a credere